Negli ultimi anni il nostro istituto è diventato uno delle scuole d'eccellenza a livello internazionale. Le nostre metodologie didattiche sono davanguardie. I nostri alunni hanno un rendimento del 10% superiore alla media nazionale. La nostra sede però ci ha costretti a ridurre notevolmente le dimensioni delle aule, sino ad avere uno succursale in un altro istituto. Sferirci al campus delle cittadine significerebbe ampliare i nostri orizzonti. Permettere ai nostri alunni di esprimersi al mezzo. Portare gli spazi adeguati per le attività sportive più motivate. E permettere addirittura ai nuovi studenti in zona di avere un alloggio all'interno del campus. Grazie all'operazione di crowdfunding e grazie ad Eppela realizzeremo un ambiente per la creazione di contenuti di realtà virtuale ed aumentata sul patrimonio artistico e culturale italiano. Grazie ad Eppela nella Creative Classroom Club convolgeremo gli alunni e i docenti della scuola e del territorio nella creazione di contenuti digitali in realtà aumentata e virtuale. I contenuti digitali saranno condivisi e messi a disposizione su social network e su YouTube. Grazie a tutti! Grazie a tutti.